Ore caldissime per definire gli organici dei campionati di serie B e C edizione 2021-22 in Italia. Il rischio esclusione è concreto per più di un club con effetto domino che coinvolgerebbe diverse piazze. Punto di partenza Verona, Spondachievo, la società di Campedelli dopo la bocciatura della Covisoc si è mossa come se nulla fosse annunciando il nome del nuovo allenatore Zaffaroni e partendo per il ritiro. La questione è complessa e riguarda l'Agenzia delle Entrate. Il Chievo aveva già in atto una rateizzazione del debito e non avrebbe pagato alcune rate. Dopo aver rimediato ai pagamenti negli ultimi giorni avrebbe voluto ripristinare il precedente accordo, decaduto però secondo il fisco. Alla finestra c'è il Cosenza, un passo che libererebbe un ulteriore posto in C dove la sola Paganese ha una situazione risolvibile già discussa e superata in passato. Molto più complicati i casi di Carpi, Novara e San Benedettese, sempre legati alla proposta di rateizzare i debiti con il fisco. La Covisoc aveva segnalato informalmente per tempo i problemi ai club interessati senza che però evidentemente sia stato posto rimedio. La rinuncia del Gozzano neopromosso premia invece l'Aianese prima nei playoff e promossa a tutti gli effetti. A ore sarà noto l'elenco definitivo ma l'FC Messina si candida intanto per una posizione preeminente nei ripescaggi rispetto a Latina, Fidelisandria e Siena. Tra le papabili riammesse ci sono invece Lucchese, Fano, Bisceglie, Pistogliese e Arezzo. Dovranno però mettere sul tavolo euro più, euro meno, circa un milione. I sei club rimandati hanno in tanto tempo fino alle 19 di martedì 13 luglio per provare a mettersi in regola mentre il Consiglio federale del 15 esprimerà i primi verdetti con i successivi ricorsi al CONI da discutere secondo calendario entro il 27 che saranno l'ultima speranza.